Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi. Terminati discutini, qua a Bailo ha vinto il cantato sindaco, grazie a tutti, è un momento in parte di gioia, in parte di una vittoria, in parte no per la taggiatura italiana. Sì, purtroppo con le lacrime agli occhi, è una vittoria tutta dedicata a Walter, che è Walter Premio, abbiamo costruito insieme la squadra, che non sono soltanto i miei voti, ma parlando con il candidato che ha perso, gli dedichiamo a entrambi tutti i voti, signati di Sassone, alla famiglia Walter Premio, che ne ha veramente bisogno, è stata veramente una giornata terribile per il paese di Bailo. il lavoro sotto i miei, la famiglia, e poi penseremo soltanto dopo il funerale, per quello che sarà, diciamo, l'amministrazione sanale di Bailo. Ringrazio tutti la popolazione, in particolar modo la squadra che ha lavorato veramente bene, in questo momento, che è veramente così disgustato da cosa è successo, per cui si è nascosto, non rilasciare altre dichiarazioni, che sono veramente affatto dal lavoro. Da va a reggiunto, è il salmio di Sardegna 17, ma è la fisica. Grazie.